buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro showroom per la rubrica green act in pillole oggi vi proponiamo una pianta già da clima autunnale con fioritura in questo periodo vi parleremo dell'ebe l'ebe è un arbusto sempreverde originario della nuova zelanda presenta piccole foglie verde scuro o variegate di giallo la fioritura in due momenti una in estate e una in autunno il fiore si presenta in infiorescenza forma di pannocchia dal colore bianco rosa o viola l'ebe è un arbusto abbastanza rustico per il nostro clima quindi un clima umido e caldo vi consigliamo di trapiantarlo in autunno in quanto ama le temperature un po più fresche il terreno che richiede un terreno ben drenato ricco di sostanza organica leggermente acido quindi al momento del trapianto vi consigliamo di formare un buono strato di argilla per il drenaggio e di utilizzare terreno e concime per piante acide può essere posizionato in una zona abbastanza soleggiata avendo cura nei mesi estivi oltre che fornire acqua e concime anche di creare un po di ombra e dire di più se non di venire da noi per scoprire questa fantastica pianta in tutte le sue forme e colori vi aspettiamo nel nostro showroom in via nazionale 34 policoro nei pressi del centro commerciale e come diciamo noi vivi la natura ogni giorno tutti i giorni a presto al prossimo appuntamento con il green act in pillone